Alleanza Assicurazioni Alleanza Assicurazioni, da sempre sensibile al tema, ha portato il suo contributo con un corner dedicato e con un interessante seminario dal titolo Come attivare il cambiamento grazie al network, che ha visto come relatore Elena Silvani, manager della compagnia, moglie e mamma di tre figli. L'attivazione del cambiamento, a mio avviso, passa necessariamente da una forte relazione con le persone, quindi dall'attivazione del network. Un network che deve essere personale e un network che deve essere professionale. Un racconto sull'importanza e la necessità di impostare un rapporto di fiducia con un network di relazioni utili, affidandosi ad una squadra, sia nel privato che in azienda, capace di portare competenze diverse per generare gestione del tempo e delle risorse e per puntare ad un life balance positivo tra carriera e famiglia. Un'esperienza valida a tutti i livelli per il mondo di alleanza al femminile. Per me lavorare in alleanza è svolgere la propria professione con passione, dinamicità e ogni giorno crescere, offrire alle persone quelle che sono le consulenze migliori nel nostro settore, nell'ambito assicurativo. Strumenti digitali, organizzazione, valorizzazione, lavoro di squadra per far emergere professionalità e passione. Anche per chi arriva da mondi diversi per misurarsi su nuove sfide. Lavorare in alleanza è un motivo di grande orgoglio. Perché? Perché arrivo da un percorso professionale diverso. Mi sono messa in gioco due anni fa. Oggi orgogliosamente ricopro un ruolo professionale di grande responsabilità. El Active è stata un'occasione non solo per condividere ambizioni, percorsi e competenze, ma anche per fare un punto sul coinvolgimento al femminile di una nuova leva di consulenti assicurativi, attraverso l'approccio di Generazione Alleanza. Sono arrivata qui incuriosita per cercare di capire meglio come progredire nella mia figura professionale. Mi sono imbattuta in alleanze e ho fatto un colloquio interattivo tramite iPad. L'ho trovato molto rapido, molto giovane. Mi è piaciuto molto e mi sono sentita coinvolta e incrociando le dita. Alleanza Assicurazioni crede nella forza propulsiva al femminile, valorizzando i talenti attraverso attenzione agli strumenti digitali e alla formazione continua, per favorire le migliori condizioni praticabili per la libera espressione delle colleghe nella compagnia.